Buongiorno Buongiorno, ben svegliati sabato 8 luglio, siamo pronti per la nostra consueta rassegna stampa per andare a vedere i titoli principali, le notizie principali sui quotidiani nazionali e locali che tra poco già trovate in edicola. Ovviamente partiremo con i quotidiani di casa nostra per poi vedere quali sono invece le notizie principali sul nazionale. Allora partiamo proprio con i quotidiani locali, iniziando dalla prima pagina del messaggero, ovviamente edizione dell'Abruzzo che apre con la cronaca bancaria impiccata e giallo. Pescara Ornella Florio di 39 anni, trovata ieri dall'ex fidanzato con un cappio al collo. Stesa sul letto, lui dice, ho rimosso il corpo che pendeva dal termosifone. Oggi ci sarà l'autopsia. Nella parte alta, per quanto concerne gli eventi, al Teatro Marruccino a Chieti, mazzoccante con Alexander Cobrin, il Marruccino regala brividi. Poi per il calcio, la vecchia dirigenza, quella capitanata da Corrado Chiodi, ha iscritto l'Aquila in Serie D. Sempre per il calcio, il Pescara, l'appello di un ex come Gaetano D'Agostino, che dice alla formazione bianca-azzurra, provaci ancora. Di spalla, la questione sempre a Chieti, una buona notizia, quella sulla Daico, che ritira i 135 esuberi. Dunque, questa è una notizia che dà immediato stop allo sciopero. A Francavilla, giudizio sprint per il cuoco assassino. Scendiamo a centro pagina per, rimanendo a Chieti, una notizia che riguarda l'Università del Vecchio. Bussa, l'Università per ora resta fuori. Chieti, il DG, vanta il decreto di reintegro. Il Rettore Caputi dice, nessun atto ufficiale. All'Aquila, De Santis, un baby consigliere, 20 anni, è il più giovane della storia del capoluogo abruzzese. Poi, nel corso di questa ora, vedremo anche la composizione, attraverso un servizio, della nuova giunta comunale dell'Aquila. Andiamo sul centro, ovviamente le quattro edizioni. Partiamo con quella di Pescara, l'apertura è simile al messaggero, bancaria ritrovata morta in casa. Pescara, l'ex compagno, si è impiccata nel bagno, ma è giallo, il pubblico ministero dispone l'autopsia. In alto, una notizia che non riguarda direttamente l'Abruzzo. A Torre Annunziata, dunque in campagna, crolla un palazzo di quattro piani, tre morti, due bambini sono dispersi. E poi, invece, torniamo a casa nostra, in sella sulle due ruote, Abruzzo da scoprire in bici. Ecco i percorsi da fare, soprattutto in estate. A centro pagina, la fotonotizia, Elio all'Aquila, io l'Abruzzo e le storie tese. Il frontman del gruppo famosissimo, Elio e le storie tese, dice che con Ginobili del volo sarebbe un duetto eccezionale. E poi, nelle cronache, emergenza case a Rancitelli, in arrivo 640 mila euro per le case agli sfollati. A Pescara, gemellaggio con Spalato senza traghetto. A Montesilvano, senegalesi in spiaggia, sale la tensione. E poi, in Regione, Corte dei Conti, medici di guardia, indennità sotto inchiesta. E per quanto concerne il Consiglio regionale, nuova legge e una fiera per i tartufi. Per il calcio, la questione che riguarda Marco Verratti. Svolta Verratti, il resto a Parigi. Il centrocampista prende le distanze dal gente donato di campo. Lo ha fatto in un video sul canale ufficiale del Paris Saint-Germain. Sfuma dunque per il nostro talento, il talento abruzzese, il sogno di andare al Barcellona. Ci spostiamo sull'edizione, sempre del centro, ma di Teramo. Ovviamente cambia il titolo. Nuovo ospedale, scelte quattro aree. Sono tutte a piano d'accio, ma Giulianova vuole salvare il suo. E allora, a questo punto deciderà il Ministero. Nelle cronache, il Marchio Sail ha venduto ad una società tedesca. Siamo a Silvi. Ad Alba Adriatica, grave un ciclista investito sul lungomare. E a Roseto, fiaccolata per il bimbo, annegato. Cambiamo edizione. Andiamo a quella di Chieti Lanciano Vasto. Caputi, qui si torna sulla questione Università. Del vecchio non si presenti. Università, il DG vuole tornare in servizio. Il rettore lo diffida. E il PM chiude l'inchiesta. A San Vito Chietino, tonnellata di marijuana nel furgone sul Lido. E poi a Chieti, dai coci ripensa, niente suberi, sciopero sospeso. A Vasto fugge dal marito per le botte, datemi casa. Vediamo le quattro edizioni con quella dedicata all'Aquila, Avezzano e Sulmona. L'Aquila, il Consiglio cambia volto. In sei sostituiscono gli eletti chiamati da biondi in giunta, De Santis. Come avete visto, il più giovane, solo vent'anni. Per lui. Nelle cronache. L'ira degli agricoltori. Parco, occupati gli uffici. Fermate, quella che è una vera e propria emergenza. Fermate i cinghiali. Nella Marsica, l'Asl, chiude otto ambulatori per i vaccini. Ci spostiamo nell'Alto Sangro, droga venduta sui social, arrestati in tre. Chiudiamo con le prime pagine regionali, con la città quotidiana della provincia di Teramo. Due opzioni per l'ospedale unico. Martedì a Teramo si discuterà di quattro progetti, ma solo due a piano d'accio sono validi. In alto, ovviamente siamo a Teramo, Coppa Interamnia, una pistola giocattolo alla sfilata inaugurale. Era di un dodicenne. E poi, nella fotonotizia, compiuta l'incompiuta, sanità, le casette simbolo dello spreco diventeranno RSA. Di spalla, alba adriatica, anziano travolto sul lungomare in gravi condizioni. Politica, Mariani cerca un candidato di bandiera del Partito Democratico. E invece, sull'altro fronte politico, Quagliariello in corona di Giovanni Giacomo. In basso, incidente in A14, sei feriti. E poi, per il calcio, Teramo dal Pescara. Arriva anche il terzino sinistro di Pietrantonio. E allora, cambiamo adesso, andiamo sulle pagine dei quotidiani nazionali, per vedere invece quelle che sono le aperture del Corriere della Sera. Trump-Putin, patto sulla Siria. Deciso per domani il primo cessate il fuoco. Cortei anti-G20, scontri e feriti. E vedete, nella foto, la stretta di mano tra i due presidenti. Quello russo, Vladimir Putin, e quello statunitense, Donald Trump. Giallo dei morti in corsia. Assolta l'infermiera, condannata all'ergastolo. In appello, non ha ucciso, ovviamente, la rabbia dei parenti. Sui migranti, Renzi frena. Aiutiamoli sì, ma a casa loro. E invece nel centrodestra unito, Berlusconi batte Salvini, leader della Lega. Andiamo al fatto quotidiano, poi andremo su Repubblica. Aiutiamo i migranti a casa loro. Renzi, posseduto da Salvini. Cambia verso, il leader PD pubblica un'anticipazione del suo libro. E poi la ritira. A centropagina, tante scuse a Contrada. Favorì Cosa Nostra, ma non era reato. Dell'Utri e Ci Sperano, si legge. La Cassazione amplica la sentenza. Cedu, pena ineseguibile. E poi, sempre rimanendo sul fatto quotidiano, c'è anche la questione legata. La vedremo tra un po', tornando sul fatto quotidiano, appena sarà di nuovo disponibile la prima pagina. Su Repubblica, Francesco, ovviamente il Papa, il mio grido al G20, no ad alleanze contro i migranti. E poi, vedete a centropagina anche la foto simbolica di Trump e Putin che si danno la mano per la Siria. Renzi, un tetto agli ingressi, aiutarli a casa loro, ma è polemica. E poi in basso, la tragedia di Torre Annunziata. Cantiere sbagliato. Crolla il palazzo. Il messaggero stop agli sbarchi, il sì degli italiani. Il sondaggio SVG del 67% è per il blocco dei migranti. Il 61% dice sì alla chiusura dei porti. Stretta di Renzi, numero chiuso. Aiutiamoli a casa loro. Polemica sui social. Il post viene rimosso. Trump e Putin, torna il feeling, c'è l'intesa sulla tregua in Siria. E poi, per quanto concerne le pensioni, il riscatto gratuito della laurea per le neomatricole. Proposta del sottosegretario Baretta, regime in via sperimentale. Dal 2018, dal messaggero, andiamo sul tempo, chiedete scusa a Contrada, il poliziotto condannato per un reato inesistente. L'Europa e la Cassazione lo assolvono. Cade il concorso esterno mafioso per i fatti prima del 1994. E lui dice ora posso morire felice. Vicenda fotocopia per Dell'Utri. Adesso, dice il tempo, liberatelo. Nella fotonotizia un fotomontaggio. Berluschione. Dopo l'ira di Salvini e Meloni, il Cavaliere fa marcia indietro e indica Sergio Marchionne come probabile candidato per il centrodestra. Vedremo se sarà così. Questa foto, si vedono i due volti, poi resi uno solo. E se spuntasse la marcegaglia, c'è l'articolo di Luigi Bisignani. Di spalla sarà vietato segnalare le postazioni, così la politica vuol fregarci con l'autovelox. Poi parla l'ambasciatore del Marocco, tornando sull'emergenza degli sbarchi, abbiamo perso la ragione. La stampa. Trump-Putin, fragile intesa sulla Siria. I leader due ore a colloquio. Tensioni sulle interferenze russe alle ultime elezioni. Primo faccia a faccia al G20 di Hamburgo. La first lady americana, Melania, bloccata a causa dei violenti scontri. Nell'editoriale di Gianni Riotta, la partita a scacchi tra i maci. Ovviamente due personalità molto forti, sia quella di Donald Trump che quella di Vladimir Putin. Migranti, Renzi contro tutti. L'ex premier, aiutiamoli a casa loro. La base del PD che dice, sembra Salvini. E poi dopo 25 anni tolta la condanna a Contrada, non era mafioso. Permesso di soggiorno a chi lavora a Torino. Andiamo sul libero. Marchionne spaventa partiti. Un premier così vince le elezioni. L'idea berlusconiana di candidare il salvatore della Fiat getta scompiglio nel teatrino della politica, dove si teme di prendere una batosta sul piano dei consensi. L'euforia solamente si legge all'interno di Forza Italia. Vittorio Feltri, l'invasione dall'Africa, o il governo si muove, o il Partito Democratico andrà in malora. E allora, a proposito, la fotonotizia Renzi spiega, non possiamo accogliere tutti i profughi. E lo stesso Matteo Renzi che scrive, vi dico perché non centro con il problema i migrati. Di spalla, sentenze sbagliate, contrada assolto dopo 25 anni, ora spera anche Dell'Utri. Nuova terapia, l'ospedale del Papa fa cambiare idea a Londra su Charlie. In basso, trovata la cura per il tumore al polmone, arriva in Italia il farmaco intelligente che sostituirà la chemioterapia. E poi, in basso a sinistra, il figuraccio mondiale, il G20 della Merkel, finisce con 175 agenti in ospedale. Il giornale, svolta di Renzi, numero chiuso, stretta sugli immigrati. Il leader del PD sta con il centro-destra e propone aiuti a casa loro. E con il reato di tortura, si legge, rischiano di saltare i rimpatri. Gli 80 anni di Roberto Gervaso, pillole, donne e parole nella vita. Dice, ho dato tutto. E poi, nelle cronache, crolla un palazzo a Napoli. Sotto le macerie due bimbi, 6 milioni. Pensate, 6 milioni. Le case a rischio, 3 morti e 5 dispersi a torre annunziata. Charlie, Londra apre, a Roma forse c'è una cura. Vale la pena di tentare. L'ospedale chiede nuovi pareri ai giudici per le sorti del piccolo Charlie. Woodcock, interrogato per 4 ore, nega e scarica su Noe e Finanza. Fuga di notizie sul caso Consip. E poi, in basso, Trump-Putin, poker con la Siria sul tavolo. Il secolo XIX, 20 miglia, frontiera blindata. Renzi, aiutiamo i migranti a casa loro. La base del Partito Democratico è critica, dice, sembra Salvini. La foto, ovviamente, non può che essere sulla stretta di mano. Trump-Putin sulla Siria. Putin-Trump, come leggete, mano tesa sulla Siria, incontro di due ore. Ma il patto, si legge, è fragile. Proteste e scontri, 300 feriti. E poi ci spostiamo alle sentenze che fanno discutere. Dopo 25 anni, tolta la condanna a Bruno Contrada. e un'altra sentenza che è destinata a far discutere, anche se riguardanti fatti completamente differenti, morte in corsia, assoluzione per l'infermiera. Andiamo sull'avvenire. Cure per Charlie. L'ospedale valuta la richiesta dei genitori. Felici. Sulla terapia sperimentale, ora la parola passa ai giudici. Due i protocolli, uno è del Bambin Gesù, sottoposti ai medici di Londra, che restano scettici, ma andranno comunque all'alta corte. No dell'ONU alla bomba, ma ancora non basterà. E poi la proposta, Renzi, migranti, a numero chiuso. Ed è subito polemica. Il dubbio, accordo avvocati CSM per proteggere i rifugiati, firmato il protocollo d'intesa tra Legnini e il presidente Mascherin. E poi, scarcerato il mostro perché non era il mostro. Dopo l'agonia, assolta in appello, l'infermiera definita killer. In basso, contrada innocente e dell'Utri. La Cassazione annulla senza rinvio. La condanna dell'ex 007. Il gazzettino migranti. Renzi spiazza il Partito Democratico. Non abbiamo il dovere di accogliergli. Aiutiamoli a casa loro. Bufera sulla nuova linea del segretario. Il caso, la frase, viene prima postata sui social, poi cancellata. Letta dice, sono parole queste che non condivido. Il G20, il lungo colloquio è intesa sulla tregua. Accordo, come vedete, sulla Siria. Trump-Putin. E poi, in basso, luxottica, visite specialistiche, check-up gratis ai lavoratori. A Belluno, il nuovo integrativo del colosso degli occhiali. Notizia questa particolare. Ovviamente, il mattino quotidiano di Napoli non può che aprire con l'inferno di Torre Annunziata. Inghiottiti nella bara di Tufo. Torre Annunziata crolla palazzo degli anni 50. Tre morti e cinque dispersi. Sotto accusa la ristrutturazione. Due famiglie distrutte. Tra le macerie scomparsi anche due bambini. La Procura apre un'inchiesta per crollo colposo. E poi, ovviamente, il commento è la prevenzione che si annuncia. Ma poi, come spesso accade, purtroppo non si fa. La storia. Francesca è salvo dal sonno alla morte. Il caso, il mistero dei lavori in due appartamenti. E poi, in basso, G20 tra l'Europa e Trump gode la Cina. Dall'altro lato, fuga di notizie. Woodcock c'era scafarto. La Gazzetta del Mezzogiorno. Migranti, accuse incrociate, gentiloni e ribatte all'Europa. Non possiamo accoglierli soltanto noi. Primo incontro fra Trump e Putin. C'è l'accordo per la tregua in Siria. E in alto, Bari si è dimesso il vice sindaco Brandi. E poi, torniamo sulla politica nazionale, Renzi-Emiliano. Disgelo a sorpresa sul tavolo pugliese. E poi la palazzina della morte. Torre Annunziata era in ristrutturazione. Crollo all'alba, due corpi recuperati, sei dispersi. Charlie, Londra, cambia idea. Proviamo la cura italiana. Il protocollo messo a punto dal bambino Gesù. La verità. Il piccolo Charlie non sarà ucciso. L'ospedale inglese ci ha ripensato. I protocolli di cura del bambino Gesù convincono i medici, evidenze scientifiche. E rivalutiamo il caso. Decisiva l'azione del Papa, che offre al bimbo il passaporto vaticano dopo l'appello proprio lanciato dalla verità. Renzi sfotte gli italiani migranti, aiutiamoli a casa loro, scrive Maurizio Belpietro. E poi il PM Woodcock sfodera l'alibi e un'amica giornalista. Stretta sui malati gravi, al lavoro anche con il cancro. A settembre la Madia metterà un tetto alle assenze dei dipendenti pubblici. Penali in busta paga per chi lo supera. Chiudiamo con i quotidiani nazionali per spostarci sui quotidiani sportivi. Perché tra un po' finirà la prima parte e vedremo le previsioni del meteo. E poi entreremo nei giornali locali, ovviamente, nella seconda parte. Però diamo uno sguardo anche alle prime pagine dei quotidiani sportivi. Partendo dalla Gazzetta dello Sport, l'apertura centrale è quella su Luciano Spalletti, che dice chi sbaglia è fuori. Il neo allenatore dell'Inter, ieri in conferenza stampa, ci sono ragazzi che è meglio, vadano via. Champions obbligata sul mercato, la società mantenga le promesse che mi ha fatto. E poi l'asterisco, chi è che è fuori, Gabigol, Medel, Jovetic, Nagatomo. Ecco la lista di chi deve partire. In alto il Milan non si ferma. Kalinic più Aubameyang, pressing a oltranza. E invece si va allo sprint per il laziale Biglia. La Juventus, sette sfide. Douglas Costa ora è più vicino, l'esterno del Bayern Monaco. In basso, da Diego a Ronaldo, il super raduno dei Big. Parata di stelle a casa di Infantino, il presidente della FIFA. Il Corriere dello Sport, mamma che Milan. Aubameyang entra nel mirino rosso-nero. Sta nascendo uno squadrone pazzesco. Il fuoriclasse del Borussia Dortmund rifiuta la Cina. Fassone e Mirabelli preparano l'affondo. La società tedesca chiede 80 milioni. Conti firma per 5 anni e dice voglio la Champions. In alto, Insigne e un Napoli da scudetto. E io non lascerò mai questa maglia. Siamo forti e ripartiamo da una grande base. Decisivi consigli di Zeman, Benitez e Sarri. In basso, Juventus incontro per Matuidi. E può arrivare il terzino Tete. Adesso è fatta, andiamo in casa Inter. Borca Valero va all'Inter. Spalletti gode per il tennis. Finisce il sogno di Fognini. Va avanti. Murray in 4-7. Formula 1 alle 14. La pole position. Hamilton perde 5 posizioni perché ha sostituito il cambio. Chiudiamo con tutto sport. Douglas Costa e Juve intesa raggiunta col Bayern per l'esterno brasiliano. Anche Bernardeschi è un passo. Con la Fiorentina si limano i dettagli economici. E poi di spalla Toro. Torino che sembra vicino a Don Sa. Poi Niang. Il ganese del Bologna è in arrivo. Mielovic lo aspetta a Bormio. A fondo Granata. Pure per il milanista. In basso Inter. Borca Valero. C'è ora Dalbert e Berardi. Milan quadrato vertice con la gente. Per la Formula 1. Hamilton vola. Ma rompe. Meno 5 in griglia. E allora a godere è il ferrarista. Sebastian Vettel. Noi ci fermiamo con le prime pagine. Adesso le previsioni del tempo. Poi rientriamo per sfogliare i giornali di casa nostra. Tra poco. Seconda parte di Mattino 6. Siamo pronti dunque per entrare all'interno dei giornali di casa nostra. Partendo con il centro e con l'apertura della pagina dell'Abruzzo. Guardie mediche. Si legge. Indennità nel mirino. Indaga la Corte dei Conti. Il procuratore stanco chiede gli atti alla regione sotto la lente della finanza. i 15 milioni di euro erogati nell'arco di 11 anni. Leggiamo anche l'inizio dell'articolo. La Corte dei Conti indaga sulle indennità di rischio percepite dal 2006 fino al 2017 dalle guardie mediche abruzzesi. I medici di continuità assistenziale, così si chiamano oggi le guardie mediche, che sono al centro di un decreto di richiesta di documenti e informazioni che la Procura regionale della Corte dei Conti ha inviato alla regione per stabilire se ci sia stato o no un danno erariale a carico del bilancio regionale. Scontro sul bilancio. Movimento 5 Stelle scrive a Gentiloni deve commissariare la regione e tra poco vedremo anche il servizio su questa richiesta del Movimento 5 Stelle con le dichiarazioni di Sara Marcozzi. Poi c'è stata anche la replica di Paolucci. Gravi negligenze contabili che vedono la regione operare contro i principi di legalità, si legge in apertura dell'articolo. Allora noi ci vediamo il servizio proprio relativo a questa polemica del Movimento 5 Stelle. Vediamo. Consigliera Marcozzi, parlate di Conti tutt'altro che in ordine della regione Abruzzo e per questo avete chiesto al presidente del Consiglio Gentiloni di commissariare la regione Abruzzo, un atto forte. Un atto forte abbiamo chiesto di sostituirsi al presidente D'Alfonso che evidentemente non è in grado di governare questa regione, non è in grado di mettere i conti in ordine. Il riaccertamento del disavanzo è fermo al 2012, siamo nel 2017 quindi di fatto non sappiamo a quanto ammonta il disavanzo. Questo comporta l'impossibilità di ulteriore indebitamento per investimenti. Dunque quando ci raccontano che non ci sono i soldi ad esempio per finanziare la costruzione di un ospedale è perché non possono contrarre nuovi mutui, perché non hanno fatto i riaccertamenti e perché non hanno i conti in ordine. Ci tengo a precisare una cosa, la regione Abruzzo è l'ultima di Italia, cioè da quando sono state inaugurate queste nuove regole sull'armonizzazione dei bilanci, sulla redazione dei bilanci, tutte le regioni si sono adeguate tranne regione Abruzzo. Siamo gli unici, siamo un unicum in Italia, siamo l'ultima regione d'Italia per cui chiediamo al Presidente Gentiloni di fare quello che non è riuscito a fare il Presidente D'Alfonso. In consiglio avete più volte chiesto e fatto degli appunti anche alla Giunta D'Alfonso, ci sono state le risposte che vi aspettavate? Beh no, ci aspettavamo un pochino di collaborazione. Noi abbiamo sempre spinto appunto per la chiarezza dei conti, per il riaccertamento e per una maggiore prudenza e per una maggiore efficacia nella redazione del bilancio, ma non ci hanno mai ascoltato. Per questo motivo, insomma, noi crediamo che debbano farsi da parte o farsi commissariare oppure se vogliono vadano a casa, visto che vogliono andare tutti quanti in Parlamento ultimamente e lasciano governare chi ha intenzione di fare del bene alla nostra regione. Su questa polemica c'è anche la risposta dell'assessore regionale Silvio Paolucci che leggiamo. A chi scomoda Gentiloni dice Dico, voi non avete a cuore le sorti di questa regione, afferma l'assessore al bilancio, perché se attuassimo le ricette da loro propalate dal Movimento 5 Stelle dovremmo azzerare gli stanziamenti per il sociale e per i trasporti con conseguenze gravissime sulla popolazione. Sarebbe semplicissimo operare con la scura e continua Paolucci, ma pagarne le conseguenze sarebbero i cittadini. Chiudiamo questa parte per andare invece su un argomento molto molto diverso. I 7 mila cercatori d'Abruzzo, tartufai, finalmente c'è la legge. Martedì il voto in Consiglio regionale. Arrivano nuove regole per la raccolta e la vendita e una mega fiera. Autobruciata, cani avvelenati, mei la pepe per fermare la guerra per i terreni di ricerca. Accade ad Orsogna. Ci spostiamo a Pescara per quella che è una vera e propria emergenza. SOS a Rancitelli. In arrivo 640 mila euro per le case degli sfollati. Ne abbiamo parlato nel corso dei nostri telegiornali. La questione riguardante le palazzine di Via Lago di Borgiano. La regione chiede al Ministero di sbloccare i fondi già assegnati all'Ater. Alessandrini abbiamo sistemato quasi tutte le famiglie sgomberate. Tra poco vedremo il servizio. Vediamo le sistemazioni provvisorie alle 16 di ieri. All'hotel Holiday, 48 persone. 57 all'hotel Amico. Marina di Città Sant'Angelo, uscita dall'autostrada Pescara Nord per intenderci. E poi le varie sistemazioni. Le regole per le nuove assegnazioni. I primi alloggi offerti a disabili e agli anziani. Alloggi popolari infatiscenti a due passi dall'ospedale. Perché insomma sono anche altre le situazioni a rischio. In via Passo della Portella, cinque palazzi Ader sono in uno stato di abbandono. Dalla strada si vedono finestre murate ma il rischio di occupazioni abusive è davvero molto alto. Il Palasport diventa un ricovero. Volontari della Croce Rossa all'Opera per allestire il Palas Giovanni Paolo II con 130 letti. E poi subito i soldi per il sociale o bloccherò il Consiglio. Pignoli annuncia una protesta. Diodati e Allegrino i tagli sono stati decisi dallo Stato. E allora proprio su questa vicenda andiamoci a vedere il servizio. Siamo al COC del Comune di Pescara. Sindaco Alessandrini è appena terminata l'ennesima riunione sull'emergenza che c'è in Via Lago di Borgiano. Qual è la situazione a tutt'oggi? Noi siamo contenti del fatto che ad oggi noi siamo in grado di dire che 228 dei 235 abitanti di Via Lago di Borgiano sono stati contattati, hanno una sistemazione per la notte e questi ultimi set verranno raggiunti telefonicamente oggi dalle nostre assistenti sociali. Abbiamo trovato una rete di protezione che si articola nella sistemazione essenzialmente in strutture alberghiere e anche in una comunale di Valle Furci. C'è anche una quota di persone che ha trovato alloggio presso amici e parenti. Nella serata di oggi ci sarà l'assegnazione di sette case, di sette immobili che ATER ha messo a disposizione e cui se ne aggiungeranno due a partire della settimana prossima. Ieri la notizia è che il Regione Abruzzo ha stanziato circa 650 mila euro per la sistemazione di 46 immobili complessivi. Dal punto di vista del Comune, che ovviamente si è visto arrivare questa emergenza sociale e che certo non può lasciare da soli i propri concittadini, c'è anche la richiesta della declaratoria di uno stato di emergenza regionale visto che tutto questo, come si dice in gergo, la palla è partita all'esito di sopralluoghi effettuati dopo lo sciame sismico del settembre-ottobre scorso. Questa è una via molto importante perché può aprire strumenti normativi, vie normative che significano forme di finanziamento. Lì oggi sono andato in via Lago di Borgiano e tutti mi ponevano la questione individuale, ma il sindaco ha il dovere di guardare all'insieme. Noi per esempio proprio ieri sera abbiamo stilato, abbiamo licenziato una delibera di giunta in cui sono presenti dei criteri che vogliono essere oggettivi per tentare di dare una risposta neutra ad un bisogno che è grande. E fermo restando naturalmente l'avere i requisiti e i presupposti richiesti della legge, ecco che la disabilità, i bambini piccoli e l'anzianità sono i criteri con cui verrà graduata la formazione di questi albi che andiamo a comporre. Rimaniamo a Peschiara per la cronaca, abbiamo già detto il richiamo anche nelle prime pagine, giovane bancaria trovata morta in casa, tragedie giallo in via Lago di Bolsena. L'ex compagno ha scoperto il corpo della 39enne, si è impiccata in bagno, ma il pubblico ministero vuole vederci chiaro e allora è stata disposta l'autopsia. Sul Lungomare Nord invece va in escandescenze al bar e danneggia il locale con un bastone. In basso via San Francesco d'Assisi auto abbandonata dopo l'incidente e poi droga. L'arrestato sceglie in silenzio interrogatorio dopo il maxi sequestro, resta in carcere il 29enne arrestato con oltre 12 kg di stupefacenti. Noi cambiamo giornale, andiamo sulle colonne del messaggero per vedere, restando a Pescara, come viene affrontata la questione di Ornella Florio. Trovata morta con un cappio al collo, si tinge di giallo la tragica fine di una bancaria quarantenne. L'ipotesi del suicidio non convince del tutto la squadra mobile. L'allarme è lanciato dall'ex fidanzato che ha anche rimosso il cadavere. L'uomo è stato a lungo ascoltato dagli investigatori. Cos'hanno fatto a mia figlia? L'urlo di disperazione della madre. Increduli amici e vicini. Sembrava serena il ricordo di Ezio Romanelli. aveva lavorato, dice, con me al tabacchi. Ancora cronaca uccisa per l'affitto. Giudizio immediato per il killer Giovanni Iacone, accusato di omicidio volontario. Monia di Domenico fu massacrata con una pietra per un affitto che era di 740 euro. Andiamo avanti, sempre rimanendo a Pescara, scommesse finanzieri denunciati dall'Agenzia Straniera. La società registrata a Malta opera in Italia senza licenze aggiuntive. Al momento del sequestro scatta la controoffensiva. E poi, nella questione che abbiamo trattato poco fa, tutti gli sfollati al sicuro. Ora la fase 2, entro settembre, gli alloggi alternativi. Pescara-Spalato, il gemellaggio c'è, il porto no. Un paradosso. Ha provato il piano dell'assessore Laura Di Pietro per rilanciare le relazioni tra le due città. Ci sposiamo all'Aquila adesso. E poi ci torneremo anche, cambiando di nuovo giornale, sulle colonne del centro. Consiglio, prima seduta il 14 luglio. Ecco chi subentra agli assessori. Entra nel vivo l'esperienza del neosindaco Biondi. Firmate le nomine, ci sono sei new entry. Pronti? Taranta, De Santis, Della Pelle, Dandì, Colantoni e Dino Morelli. Ci sono anche le relative foto. Il personaggio, Francesco, il più giovane consigliere della storia. Rifiuti e sanità. L'alleanza tra i sindaci del territorio. Ovviamente sempre nell'Aquilano. D'Alfonso al veleno. E forse si torna proprio sulla questione elezioni che ha visto il centro-sinistra uscire sconfitto al ballottaggio. Il candidato va sostenuto fino in fondo. Il candidato una volta scelto va supportato in ogni momento come il migliore. Altrimenti si realizzano, dice D'Alfonso. Aiuti involontari per chi ha il mandato dall'altra parte di abbatterlo come il peggiore. Controlli sulla Movida. Un altro arresto sempre all'Aquila. Ritirata anche una patente per guida in stato di ebrezza e sette sanzioni ai locali notturni del centro storico. Finanziamenti post-sisma assolta un'imprenditrice in appello. Ma torniamo sulla questione nuova giunta aquilana. E allora con questo servizio facciamo un po' il riassunto della situazione. È fatta la giunta comunale del nuovo sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi che la prossima settimana verrà presentata. Non c'è più il segretario comunale forzista Stefano Morelli. Al suo posto il neoconsigliere Sabrina Di Cosimo, promossa subito assessore. Per il resto sono state confermate tutte le previsioni. Anche quella di Annalisa Di Stefano, assessore tecnico di centro-destra, che avrà la delega pesante al bilancio. La linea dura del sindaco Pierluigi Biondi è prevalza. I forzisti sono passati infatti da tre assessori richiesti a due. Mantenendo però sia il vice sindaco Liris, braccio destro di Biondi, che il presidente del consiglio comunale Roberto Tinari. Non entra Raffaele Daniele dell'Udc. Un'età media molto bassa peraltro. Il sindaco Pierluigi Biondi tiene a sé la delega della ricostruzione, ma anche quella del personale. Guido Liris, vice sindaco, opere pubbliche e altre deleghe. Sabrina Di Cosimo si occuperà della cultura. Luigi Deramo delle politiche urbanistiche dell'edilizia. Emanuele Imprudente, territori, ambiente e rifiuti e altre deleghe, compresa quella della protezione civile. Alessandro Piccinini sarà il nuovo assessore al commercio e allo sport, ma anche all'avvocatura. Carla Mannetti si occuperà di trasporti e infrastrutture di mobilità urbana e sicurezza sadale, ma anche di politiche comunitarie. La new entry Monica Petrella si occuperà di politiche giovanili. Francesco Bignotti dell'Aquila Futura, di agricolture, politiche sociali, politiche abitative, politiche per gli studenti. Annalisa Di Stefano, come dicevamo, al bilancio. Insomma, io credo che sarà un'aggiunta in grado di fare bene se tutti seguiranno i canoni e le regole che ci siamo date. Quelle del lavoro continuo, dell'impegno in favore della città e soprattutto dell'Aquila al primo posto rispetto alle ambizioni personali e alle esigenze dei singoli partiti. Lei ha tenuto a essere una delega importantissima, quella della ricostruzione. Sì, in realtà due, perché è anche quella del personale. Sono due settori molto complessi. Il personale ha bisogno di una profonda riorganizzazione e quindi ho preferito in questa fase, come dire, assegnare all'autorevolezza del ruolo di primo cittadino questa competenza. E poi la ricostruzione che ho praticato, diciamo, nella mia prima esperienza da sindaco e quindi conto di salire su un treno sì che va di corsa, che però sono in grado di concorrere a guidare. Queste le parole del neosindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi. Fatta questa parentesi sul capologo, ovviamente sulla nuova giunta, torniamo invece sull'area metropolitana di Pescara, Francavilla e Bassaval Pescara. Tornando sul centro, a fuoco due auto e sette cassonetti della scuola San Giovanni Teatino. Piromani in azione in centro, indagini sui roghi in sequenza. Il sindaco condanna i responsabili nelle foto, vedete le auto incendiate. Notte bianca con balli e artisti di strada e invece in basso, tappa storica Cepagatti della mitica Acerbo. A Montesilvano, senegalesi, sale la tensione, emergenze immigrati, comitato civico in campo. Il portavoce di Riprendiamoci Montesilvano, Forconi, chiede un passo indietro al gruppo che dopo il blitz in via Arriosto è tornato a dormire sulla spiaggia. Quattro arei verdi alla NL Group, De Vincentis, aiuole ai privati. L'esperimento funziona, raddoppia l'obolo per gli invalidi. Dal primo luglio costi maggiorati per il rilascio di contrassegni e di rinnovo delle patenti. Tutto pronto per la 55esima crono scalata di Popoli. Entrano nel vivo i preparativi per la corsa motoristica che si terrà sul tradizionale tracciato delle svolte dal 4 al 6 agosto. Trafficante avremo in città i piloti migliori. Nuova mobilitazione per l'ospedale San Massimo, appena il 12 luglio. Riunione del comitato che su Facebook conta 3500 aderenti per allestire un altro corteo. E poi il pianoforte nel bosco di Curran, oggi a Loretta Prutino, suono e natura con il musicista, compositore statunitense. A Chieti, Università d'Annunzio, il rettore del Vecchio non si presenta. Il direttore generale vuole rientrare al suo posto già da lunedì prossimo, ma Caputi lo diffida ovviamente dal tornare. Giancarlo Ciani, il PM chiude le indagini. Il DG è accusato di abuso e falso insieme a Carmine Di Iglio, ma non è più interdetto. Abbasto, picchiata a sangue dal marito padrone. La donna chiede un ambiente protetto, ma le case non ci sono. L'aiuto incredibile, non fare nulla. Una tonnellata di marijuana nascosta nel furgone San Vito. I carabinieri scovano il veicolo. Era da due giorni sul Lido 500 mila euro il valore della droga. E a proposito di droga, andiamo, torniamo all'Aquila, ma per un'altra questione. Droga ordinata sui social, tre arresti, Castel di Sangro, in realtà siamo in provincia dell'Aquila, più che all'Aquila città. Castel di Sangro, minorenni tra gli acquirenti, pagavano con catenine e braccialetti d'oro rubati ai genitori. A Scanno sta meglio l'uomo ferito con un fucile. La Lioce, pronta per il processo, ma il giudice ha rinviato a settembre l'udienza per la brigatista Nadia Desdemona Lioce, che deve subire un ergastolo. Musica spacca timpani, multe a sei locali. L'Aquila, blitz della polizia dopo le segnalazioni dei residenti. Ha rifermato un giovane con la droga. Ad Avezzano, tifoso morto, verità dall'autopsia, inchiesta in procura. A Teramo, le caramelle Saila diventano tedesche. Nuova cessione della fabbrica, fondata 80 anni fa. La svedese Cloetta vende il marchio alla Ketis International. A 14, scontro in galleria, sei feriti, due sono dei bimbi. Tamponamento tra due auto, i piccoli e la mamma trasportati a Pescara. Gli altri tre invece a Teramo. All'Alba Dreatica, anziano ciclista travolto da un'auto sul lungomare e grave. A Roseto, in tanti alla fiaccolata, in ricordo del bimbo annegato. Prima di andare allo sport, torniamo sulle colonne del messaggero per continuare la lettura del quotidiano. Andiamo su un argomento che in questi ultimi tempi ha fatto anche, se vogliamo molto discutere, vaccinazioni. Celano guida la rivolta. Per il sindaco è inaccettabile la soppressione degli ambulatori. Razionalizzare bene, ma senza penalizzare i cittadini. Santilli chiama raccolta a tutti i colleghi marsicani contro l'assurda decisione di limitare i presidi sanitari. Castel di Sangro, spaccio di droga a minori con Facebook, tre arresti. Avezzano, morto al pronto soccorso, l'autopsia ha ceduto il cuore di Pier Giuseppe Leonio. Sanità e ferrovie, siamo a Sulmona. Le opposizioni incalzano la politica regionale. E poi premio Croce, Sgarbi e Ainis tra i vincitori del premio di Pescasseroli. Tagliacozzo, ecco Ascanio e il Festival. Acchieti, del vecchio bussa all'Ateneo. Caputi lo mette alla porta. Il DG vorrebbe tornare al lavoro dopo il reintegro della Cassazione. Il rettore non c'è stato notificato, nessun atto. La situazione per noi resta immutata. Mazzoccante Cobrin, marruccino da brivido. Questo è l'evento che riguarderà il teatro del capoluogo teatino. San Buceto, auto e cassonetti. La notte delle Molotov, due attentati incendiari. Uno a colpi di Molotov. È stata una notte di paura e fiamme a San Buceto. Supercarcere. Ci spostiamo a Lanciano. Scatta l'emergenza 41 bis, il comandante della polizia penitenziaria Gino Dinella. Pochi agenti per tanti affiliati al crimine organizzato. A Villa Stanazzo, detenuti di Indrangheta, mafia e camorra. Indispensabile svolgere continue indagini e fare controllo. Lanciano, bilancio Sasi. La prescrizione affonda le accuse. Punta penna, porto ok, aumentano navi e merci. Siamo a Vasto, a Lanciano. Furgone K.O. per un guasto, ma è pieno di droga. Foratura permette di scoprire alla marina una tonnellata di marijuana. A Teramo, hospice, una eccellenza, ma i medici sono contati. Lettere di ringraziamento dei pazienti. Sembra quasi di trovarsi a casa propria. Il nodo resta l'assistenza a domicilio. La regione dovrebbe colmare la lacuna. Gruppi elettrogeni per 11 sindaci. Questa è la donazione. Nosocomio unico. Le tre ipotesi. Il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, dice invece. Resti qui. Medicina veterinaria tra i top italiani. Concorso per finanziamento. Milionario. La cronaca. Travolto mentre era in bici. Anziano grave al Mazzini. Successo ad Alba Adriatica. Bus da Civitella. 90 minuti per 20 chilometri. Insomma, non proprio immediato il viaggio. Ospedale piace il progetto locale. Accolto favorevolmente da D'Alfonso e Mascitelli il lavoro presentato dal tavolo tecnico per un primo livello in città. Il sindaco Mastromauro, sindaco di Giulianova, ci stavano chiudendo. Ora rivediamo la luce perché abbiamo parlato di proposte e non di proteste o campanilismi. Grande attesa stasera sempre a Giulianova per la notte dei saldi. Ad Alba Adriatica. Arenile senza sabbia. E dunque c'è la protesta del sindaco. A Tortoreto. Musica, sagra e cultura. Mese ricco. Ovviamente quello di luglio, ma non solo. Soprattutto quello di agosto. Di iniziative come ogni estate. Emorragia. Ricoverato Stefano di Filippo. Era uscito dal carcere solo lunedì scorso per essere ammesso al regime dei domiciliari. Primo campo boe nell'area del Cerrano. Ovviamente siamo a Pineto. E allora, cambiamo adesso. Andiamo su un quotidiano che affronta per intero le vicende della provincia di Teramo. Proviamo ad andare sul quotidiano la città di cui abbiamo visto l'apertura che riguarda sostanzialmente la questione ospedaliera del famoso ospedale unico di cui si parla tanto. E vedremo se poi sarà in effetti proprio così. Andiamo sulla pagina... Eccola qua. L'apertura. Ospedale unico. Quattro opzioni per la sede nel capoluogo. In commissione discusse le proposte di localizzazione del nuovo presidio per acuti. Ma due sono già scartabili e ci sono anche le probabili aree dove potrebbero sorgere questo ospedale unico. Le casette di Casalena invece diventeranno una RSA da opera simbolo tra le incompiute a struttura necessaria per la sanità. Coppa Interamnia sequestrata una pistola durante la sfilata. L'assessore è preoccupato dalla notizia in tv ma si scopre che era un giocattolo di un bambino di 12 anni. Riordinata l'ordinanza sulle bevande in piazza. La confusione. Terzo provvedimento dall'inizio dell'estate per la somministrazione nei locali. A Teramo per la politica Mariani cerca un candidato sindaco di bandiera. Sanno tutti che il commissario ha già puntato su Giovanni Cavallari purtroppo però non fa parte del PD. Scuola, libri gratis nel cratere. Campi chiede spiegazioni. Sul fronte centrodestra invece Quagliariello in corona di Giovanni Giacomo. L'ex assessore tecnico di Brucchi nominato coordinatore provinciale dei Dalmati del movimento Idea. Passaggio del martelletto per il Rotary Club. A Villa San Marco la cerimonia di avvicendamento alla presidenza tra Serafina Garbati e Umberto Cantarelli. Decoro urbano. Studenti e cittadini fanno il lavoro del comune. Teramo raccoglie e scesa in campo per ripulire diversi punti della città. Prima dell'avvio della Coppa Inter Amnia ha partecipato anche il prorettore vicario dell'Università di Teramo, Dino Mastrocola. In provincia poli scolastici pronti entro un anno. Il sindaco di Campi, Quaresimale, fa il bilancio di tre anni di mandato e fissa i nuovi obiettivi. E c'è l'intervista proprio al primo cittadino farnese. Abbellante droga nel trattore assolto un trentenne che era stato arrestato dalla polizia lo scorso 6 giugno. La montagna riparte sulle tracce dei pastori. Oggi e domani la centocinquantesima edizione della fiera della pastorizia Piano Roseto. La prima dopo terremoto e maltempo. La lettera di Pepe lavoriamo assieme per tutelare le persone e le aziende agricole. L'assessore scrive alle associazioni venatorie dopo l'attacco degli ATC sul piano di contenimento del cinghiale. Potabilizzatore usato dieci volte meno che in passato. Il ruzzo risponde con i dati alle critiche del consigliere regionale mercante sulla qualità delle acque. I Lions donano invece una rete per le emergenze ad 11 comuni terramani. Mai più senza gruppi elettrogeni e ponti radio nei territori colpiti dall'ondata di maltempo di gennaio. Val Vibrata, ciclista travolto sul lungomare di Alba Adriatica. Sempre in Val Vibrata, un milione di euro contro il dissesto geologico. E utile netto di mezzo milione di euro per la Poli Service. A Giulianova, niente permessi. Salta l'ennesimo evento. Falsa partenza per l'attesa manifestazione calice e musica al chiaro di luna. In basso per la sanità, un altro incontro interlocutorio sull'ospedale. Il sindaco dà ad Alfonso per chiedere di non penalizzare la struttura giuliese. Torniamo adesso a parlare di sport con i quotidiani il centro e il messaggero per vedere qual è l'apertura che riguarda il centro che parla di Marco Berratti. Si piega al Paris Saint Germain, resto a Parigi niente Barcellona. Il centrocampista prende le distanze dalle affermazioni dell'agente di Campania e annuncia che rimarrà in Francia. Intanto piovono altri soldi dalla Nike. In Serie B, Caos Palermo. La guardia di finanza in sede e a casa di Maurizio Zamparini. Ma andiamo adesso sulle questioni che riguardano il Pescara. Memushay, il capitano, sempre più lontano. Prossima settimana incontro decisivo per il passaggio dell'Albanese al Benevento. Frenata per Gatto, la società riflette. Invece per quanto riguarda un affare fatto, quello di Simone Andrea Gans, lunedì visite mediche e partenza per il ritiro. L'attaccante svolgerà il primo allenamento della stagione a Rivisondoli alle ore 17. Zeman è già in città. In Lega Pro, Teramo, Paolucci è fatta. In arrivo anche Diallo. Lega Pro, il filo diretto con il Pescara, sta portando al Diavolo diversi giovani. Si rende dalla Serie B per Di Paolo Antonio. Piace a Ternana, Cremonese e Spezia. San Nicolò cerca uno stadio. Ipotesi, Morro d'Oro. Il tecnico Bisci dal Piazzano alla Val di Sangro. Andiamo sull'altra pagina. Stasera la premiazione del Marciano. Premio Rocky Marciano a Ripa Teatina. Beach Volley ad Alba Adriatica. King and Queen Serie A, weekend di spettacolo. Per sempre per il Beach Volley. Paolo Cappio ai mondiali Under 21. Oggi e domani c'è l'ammiraglia Cap. E poi invece Nicolai e Lupo accedono a fatica alla fase ad eliminazione diretta nella tappa del World Tour in Svizzera. Andiamo invece sul messaggero per vedere come viene affrontato il tema sport. con l'intervista a Gaetano D'Agostino. Pescara, provaci ancora. Parla D'Agostino, l'ex centrocampista biancazzurro. Oggi allenatore della Virtus Francavilla in Serie C. Zeeman resta un maestro per tutti noi. I suoi schemi d'attacco adesso sono copiati da Guardiola e Sarri. Per il mercato, Insigne Junior. Roberto Insigne, ovviamente non Lorenzo. O Gatto Dal Chievo per l'attacco. Precampionato oggi la lista dei convocati. Teramo invece. Dal Delfino arriva un altro nome, Manfredo Pietrantonio. E' già fatta per calore di Allo Ventola, Milillo e Paulucci dopo il vertice con il DS. Giorgio Repetto. Dunque arriverà anche Manfredo Pietrantonio che l'anno scorso era all'Aquila. Due anni fa era a Chieti. E a proposito di Serie D. Francavilla crede alla D presentata la domanda di ripescaggio. Nel basket il campi si iscrive cambiando società. Confermato coach Millina, spero, in un bel roster. Rugby, l'Aquila, crociati. Semifinale scudetto domani sul campo di Centicolella. I ragazzi di Marozzi dovranno affrontare Catanzaro nella Liga a 13 giocatori. E sempre all'Aquila. E con questa notizia davvero chiudiamo. Sarà Chiodi a garantire l'iscrizione. Dunque la vecchia guardia. Con questa notizia noi chiudiamo questo mattino 6. Che è l'ultimo della settimana. Ovviamente torniamo lunedì mattina sempre alle 8. Io vi ricordo l'edizione del nostro telegiornale alle ore 14. Allora non resta che augurarvi un buon sabato e un buon weekend. Speriamo in compagnia dei nostri programmi. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata.